Raccontiamo di sapori, colori e bontà della nostra terra. Esaltiamo la bontà del cibo con la freschezza dei prodotti locali e le primizie di Sardegna. Ristorante-pizzeria Il Quirinale da Tony. Nel cuore della nostra Sassari, l'indirizzo giusto per riscoprire il piacere della tavola. Vieni a trovarci in Via Cavour 3, saremo felici di servirvi e racconterete di noi. Continua l'allerta meteo anche per oggi diramata dalla protezione civile. Dopo le abbondanti nevicate che hanno interessato il centro dell'isola, rallentato il traffico per la presenza di neve e ghiaccio su tutte le arterie, anche quelle a ridosso delle coste come ad Alghero Porto Torres e perfino Sassari, si prevedono ancora forti precipitazioni e il perdurare di temperature rigide. L'inverno è arrivato con un mese d'anticipo rispetto agli ultimi dieci anni e si preannuncia piuttosto rigido. Dopo un'estate particolarmente torrida con la presenza di devastanti incendi, ora l'isola dovrà confrontarsi con un'altra emergenza legata ai rischi idrogeologici. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco nella giornata di ieri in tutta la Sardegna per incidenti stradali, crolli di alberi e strade interrotte da neve e ghiaccio. Ralentamenti nel traffico si sono registrati in tutte le arterie. L'area polare che si è abbattuta sul Mediterraneo proseguirà per tutto il mese. L'avviso della protezione civile è quello di non sostare lungo i corsi d'acqua e di non attraversare sottopassi o punti.